Dieci giorni di eventi per accompagnare le finals, coinvolgere spettatori turisti che saranno in città in quelle settimane e magari contribuire anche a convincere il circuito ATP a prolungare per altri cinque anni la sua presenza a Torino. È ricco il calendario di appuntamenti predisposto da Comune Regione e Camera di Commercio che è stato svelato questa mattina a Palazzo Madama, nella piazza, che sarà il cuore degli avvenimenti collaterali e dove sarà allestita la nuova Casa Tennis, una tenso struttura da 150 posti dove si alterneranno conferenze e spettacoli. A pochi metri di distanza, nell'archivio di Stato, troverà invece spazio la Casa del Gusto, dedicata all'enogastronomia. Appuntamenti che prenderanno il via il 9 novembre e che si affiancheranno a quelli del Fan Village in allestimento di fronte al Palazzo Zacchi che aprirà i battenti l'undici. Un complesso di iniziative che nelle intenzioni delle istituzioni punta a far crescere le ricadute economiche sul territorio. Le attese sono a crescita a doppia cifra, ovviamente c'è un limite di capienza per quanto riguarda gli eventi ma quello che crediamo molto sia la partecipazione agli eventi che abbiamo costruito intorno alle gare quindi la presenza nel centro della città, le degustazioni, i talk, le visite guidate. Il crescendo di eventi culminerà il 18 novembre nella notte bianca del tennis che coinvolgerà tutta la città e che in molti si augurano possa essere il prologo a una finale colorata di azzurro per la prima volta con Yannick Sinner in campo, sognare è lecito. Qui lui sarà supportato da un pubblico molto competente, per la maggior parte italiano ma non solo e di conseguenza io credo che potrà fare sicuramente un grande torneo. Appuntamento il 9 novembre per il sorteggio dei Gironi, primo passo dell'avventura sportiva dei maestri del tennis.